Salve a tutti e ben ritrovati, come avete capito dal titolo siamo qui con lo showcase di ASO a livello 100 ragazzi questa è la build e adesso vedrete anche i tag attivi, ragazzi preparatevi perché penso che già lo sappiate in molti ma questo personaggio è devastante ecco qua il primo gameplay, allora video commento, questo qua è il mio membro dell'allenanza che l'ha portato al 100 e raga godetevi lo spettacolo perché questo personaggio a mio parere è uno dei migliori del gioco escludendo le X è rosso, perfetto per il meta attuale contrastando i vari Oden e Roger gli attapi di base ti inseguono, la seconda skill extra long range stun la prima skill tantissima roba e inoltre per killarlo bisogna killarlo tre volte raga praticamente hanno preso Sogeking e gli hanno dato un kit mega rotto, cioè ragazzi personaggio davvero davvero devastante questo ASO veramente, questo qua qui mi ha mandato sono stati, insomma mi ha registrato due gameplay, insomma il meglio che ha potuto fare veramente troppa roba, cioè fantastico, fenomenale, questo pg è fenomenale, tac e via poi con il fatto che sia runner e scappi dappertutto, gli attacchi base che ti inseguono raga è uno dei personaggi migliori del gioco veramente, non ho parole, cioè hanno veramente, secondo me con ASO ragazzi hanno un po' esagerato hanno un po' esagerato davvero, perché è fortissimo seconda skill, tac che l'abbiano vinto 5 a 0 questa poi quando arriva il team boost si fulla pure gli HP, cioè ma di cosa parliamo è proprio fastidioso, fastidioso raga, cioè guardate, ma come fa, ma non lo so, non lo so raga, fortissimo ah qua ha beccato la muretta, non l'ha preso, però vabbè cioè proprio ti pressa in una maniera incredibile sto pg, veramente ok skill 1 e mamma, mamma mia raga, mamma mia, mamma mia che personaggio fortissimo, fortissimo davvero, fortissimo non ti lascia a scatto, non ti lascia a scatto il 1, ah no, qua è asciuto a schivarlo, salvo, bravo che poi è uno di quei pg che fa, cioè, fa veramente facilmente tantissimo scorro in partita 8.612, ragazzi, cioè, fotonico, pg veramente è troppo sgravo, troppo sgravo passiamo al secondo gameplay raga, che è l'ultimo anche che farò vedere e preparatevi, preparatevi perché qua vedrete una partita che dire spettacolare è dire poco ragazzi veramente eccezionale ho preso la bandiera e via con la prima mossa sta seconda skill è rotto, ecco, qua Fishman Island è veramente sgravo perché può mettersi qua sopra e con le attacche base ti insegono pure i nemici di sotto fantastico, fantastico, cioè è veramente rotto sto qui, è veramente rotto sto qui, girata cioè, a me personalmente, proprio per gusto personale non piace molto, però è indubbiamente rottissimo è indubbiamente rottissimo mamma mia, mamma mia, mamma mia, che pg lui è uno dei pg veramente che affrontano Roger e Oden in maniera fantastica ecco qua che adesso prende l'Oden da sopra prima skill e bam via con la seconda e bam mamma mia, Usopp veramente, veramente mamma mia rotto 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 bene ragazzi, manca quasi un minuto alla fine della partita io vi invito a lasciare un like iscrivetevi al canale attivate la campanella notifiche se non l'avete ancora fatto scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate di questo personaggio ma penso che vi siate d'accordo con me perché è veramente rotto e vi ricordo i link e descrizione del gruppo canale news dove pubblichiamo tutte le informazioni temporali sui contenitori lasciate il nostro gruppo telecom dove parliamo e ci divertiamo assieme detto ciò raga, noi ci vediamo alla prossima e preparatevi perché arriveranno video sulla 2v2 mod sperando sempre che la sistemino e anche sul nuovo gioco di Myro Academy Global mi raccomando raga, noi ci vediamo alla prossima, ciao! ciao